ok allora siamo partiti con la registrazione io vi do il buon pomeriggio a tutti e vi ringrazio di partecipare a questo seminario che come vedete ha per titolo da rilievo laser scanner al modello 3d su sketchup qui adesso vedete che l'intestazione riporta collegio geometri geometri laureati di padova per cui so già che molti di voi penseranno di aver sbagliato webinar questo perché perché intanto io mi presento sono gianni rossi e come vedete sono proprio il responsabile dei corsi online del mio collegio che è il collegio geometri e geometri laureati di padova perché dicevo che molti di voi adesso penseranno di aver sbagliato webinar perché in realtà questo seminario è stato proposto appunto a tutti ecco io sono questo qui sto proposto a tutti i geometri iscritti al portale corsigeometri.it che è appunto il sito del nostro collegio che propone una serie di corsi online a tutti i geometri d'italia poi magari lo vedremo sono oltre 70 corsi molti di questi sono seminari gratuiti come questo qui poi invece molti altri sono corsi effettivi vedete che danno i creati formativi per cui noi in sostanza abbiamo invitato i nostri iscritti al portale che sono 30.000 geometri italiani però poi questo seminario è stato anche promosso dalle due società che in pratica lo producono questo seminario che sono la crisi di roma che vedete è una società che si occupa di soluzioni geospaziali quella che in gergo si chiama solution provider nel senso che crisi non propone singoli prodotti ma propone soluzioni e si propone come partner per queste soluzioni e infatti poi io darò la parola in ger carlo florio che terrà questa sua relazione in particolare in ger florio parlerà proprio della parte di rilievo con laser scanner poi c'è invece tecnobit di bassano e grappa che è il distributore di sketch up per l'italia distributore ufficiale di sketch up per l'italia e qui il relatore è l'archivetto marco chiarello che ormai è diciamo mitico io lo definisco perché sono ormai diversi anni che si occupa di sketch up che divulga sketch up e altri strumenti di presentazione 3d per cui fa molti video fa molta attività online per cui probabilmente lo conoscerete anche già questi sono le due società i due relatori e poi c'è l'eventuale dibattito finale cioè se faremo tempo e se farete domande vedremo se rimarrà il tempo per rispondere quindi diciamo ecco che gli invitati a questo seminario sono oltre che ai geometri del nostro sito anche gli utenti crisel e anche gli utenti tecnobit per quanto riguarda sketch up perché poi lì c'è un sito che si chiama sketch up italia.it che raggruppa tantissimi iscritti ecco utilizzatori di sketch up per cui questo è il motivo per cui adesso vedete in realtà che le slide mie si presentano come collegio geometri io in realtà qui devo semplicemente portare via qualche minuto spero siano meno di 15 che avevo previsto qua perché se siete dei geometri appunto iscritti al nostro portale vi spiegherò un po come ottenere il credito formativo previsto ma anche un po come seguire questo seminario molti di voi ne hanno già seguiti tanti voi sanno già tutto quindi vado via veloce diciamo ecco che per porre le vostre domande domande quesiti commenti sapete che se siete entrati dal webinar perché oggi noi abbiamo molti entrati via webinar e molti altri entrati via youtube se siete entrati dal webinar sapete che c'è questa cella domande su cui potete scrivere direttamente i vostri quesiti commenti eccetera io terrò monitorate queste vostre domande e poi appunto alla fine del seminario se ci sarà tempo e spazio ne proporò non so se tutte o se qualcuna vedremo quante saranno ai due relatori se invece siete entrati da youtube sapete che anche youtube ha la sua chat per cui potete andare a scrivere le vostre domande i vostri commenti sulla chat youtube bene poi diciamo che per chi è entrato al webinar volendo ma vedremo se appunto ci sarà la possibilità di farlo potreste anche chiedere la parola per cui avete sul pannello del webinar questa iconetta della manina alzata quindi cliccando questa io mi accorgo che avete chiesto la parola e possiamo anche aprirvi il microfono ecco poi invece se siete entrati da youtube perché siete diciamo stati invitati da crisi da tecnobi eccetera e siete dei geometri perché questo vale solo per i geometri se volete avere credito formativo dovete comunque andare sul sito corsegeometri.it registrarvi se non lo siete già cliccare sull'annuncio del seminario e poi all'interno trovate il bottone iscriviti al seminario gratuito in questo modo poi vi garantite il credito formativo ecco la slide più importante è questa cosa fare dopo la diretta sempre per i geometri dovete collegarvi di nuovo al sito fare il login ovviamente poi cioè se fate il login dovrebbe già uscirvi la pagina i miei corsi cioè la pagina che elenca tutti i corsi ai quali vi siete iscritti se non succede questo basta vedete attivare il menu profilo i miei corsi e si apre la vostra pagina dei corsi da questa cliccate sul titolo del seminario di oggi e si apre la tabellina del seminario e qui troverete appunto questi tre bottoni video file e test che vi permettono di fare quello che vi spiego adesso cioè il video chiaramente permette di lanciare la registrazione beh no partiamo da file qui ecco se cliccate file scaricherete un file zip con le slide dei relatori e anche queste mie se invece cliccate su video vedete parte qui un video parte una finestra che in pratica riproduce la registrazione del seminario e naturalmente come al solito c'è l'iconetta per ingrandire tutto schermo ecco importante questo filmato vi rimane a disposizione a tempo determinato quindi in pratica lo potete vedere anche fra mesi se volete rinfrescarvi un po la memoria su quello che avete visto per sostenere il test ottenere i crediti allora qui questa sera tardi o al massimo un'ora di mattina nella vostra pagina del seminario troverete appunto il bottone video il bottone file e anche il bottone test il bottone test fa partire un test adesso qui non guardate questa domanda che è relativa a un altro seminario che sono delle domande vedete con 4 3 4 risposte pre compilate tra cui scegliere quella giusta e sono dieci domande avete tempo un'ora non preoccupatevi perché è molto molto semplice perché lo farò io stasera questo test in base a quello che diranno i relatori ma le domande che farò non sono di tipo concettuale sono soltanto mirate a verificare che abbiate visto la sessione in pratica e quindi le domande riguardano quello che diranno i relatori ma non c'è niente di difficile quindi questo vorrei dirvelo perché appunto per avere il credito dovete sostenere questo test poi questa roba qui ve la lascio leggere sulle slide perché qui vi spiega che se non superate avete un secondo tentativo che se non superate invece viene assegnato il credito la cosa da tenere sotto occhio è la scadenza perché per avere il credito dovete sostenere il test entro il 19 marzo altrimenti il credito non lo ottenete e quindi qui adesso questa roba qui la salto via se no porto via troppo tempo qui trovate in pratica la spiegazione di come avviene il test di come vedere le domande giuste sbagliate poi qui trovate ma no qui andiamo questa la vediamo perché è importante ecco noi diciamo per questo seminario un po per tutta la sessione che riguarda laser scanner e restituzione 3d abbiamo istituito un forum del corso quindi quando voi entrate nella vostra pagina del seminario trovate questo bottone vai al forum del corso in questo forum in pratica noi mettiamo le comunicazioni del ufficiale del collegio lo vediamo sulla slide successiva ma qui in realtà voi potete scrivere tutti i vostri commenti io qua ho anche creato già un topic si direbbe in gergo ma insomma un argomento sul quale voi potete anche dopo aver visto questa diretta andare lì e se vi vengono in mente altre domande altri quesiti altri commenti andare a scrivere sul forum quindi qui la raccomandazione l'ho messa in maniera molto evidente se dovete fare comunicazioni utilizzate il forum e non le mail perché le mail poi rischiamo che vadano in spam non vengono viste non vengono lette mentre sul forum il forum è lì noi lo guardiamo tutti i giorni per cui non abbiamo di questi inconvenienti poi ripeto sempre per il credito formativo noi dopo il 19 marzo e quindi in aprile metteremo una comunicazione adesso questa è quella ultima di gennaio ma insomma metteremo una comunicazione con le indicazioni per quanto riguarda il credito formativo per cui anche lì quando scadere il seminario dopo il 19 marzo non scriveteci mail tutti quanti ecco c'è la mia comunicazione che metterò lì che vi spiega avete perfilo per segno se non trovi cfp se non ti è arrivata la mail del simf eccoci gli spieghiamo tutto quello che dovete fare a questo punto qui diciamo che salto via le risposte domande più frequenti così ve le leggete con calma dalle slide e adesso così vi rubo altri 30 secondi diciamo di commerciale anche se non sono un gran commerciale perché appunto vi volevo così dire due parole sempre per i geometri sul nostro sito corsi geometri.it vedete è un sito che dicevo raggruppa ben 70 corsi questi con l'etichetta live sono corsi che vanno in diretta cioè che devono ancora tenersi in diretta quelli che hanno soltanto l'etichetta e learn vuol dire che sono già stati tenuti in diretta ma li potete vedere registrati quindi potete vederli in orario nei giorni negli orari che preferite quindi sera di sabato quando vi fa più comodo ripeto sono 70 corsi se andate qui sul menu a tendina in alto vedete che abbracciano tutte le materie di competenza geometra quindi topografia catastrofe di confinazioni prestazione CAD BIM Render che è un po' il tema di oggi valutazione immobiliare successioni efficienza energetica e acustica sicurezza cantieri produttività individuale ecco e qui noi cosa proponiamo proponiamo un abbonamento che si chiama learn che costa 160 euro e che vi dà la possibilità per un anno quindi se lo fate per dire oggi dura fino al 18 febbraio 2022 quindi per un anno potete frequentare volendo anche tutti questi 70 corsi che sono effettivamente corsi che poi abbiamo visto tutti anche molto apprezzati dai geometri italiani ripeto noi abbiamo 30.000 geometri iscritti a questo portale se andate sulla piantina dell'italia qui cliccate sulla vostra regione sulla vostra provincia troverete anche l'elenco di tutti gli iscritti di quella provincia con nome cognome comune di residenza e trovate anche i loro commenti le loro recensioni quindi questo volevo dirlo poi qui nelle slide ho anche raggruppato tutti i corsi l'ultima slide che così finisco mi preme questa farò vedere con un po di dettaglio perché sono i prossimi corsi e seminari online gratuiti gratuiti i seminari i corsi invece sono compresi l'abbonamento ecco noi il 4 marzo noi giovedì scorso abbiamo tenuto un seminario sulle pollice per geometri riguardanti le pratiche super bonus per chi fa l'asseveratore eccetera no ed è stato un seminario che ha avuto un successo incredibile hanno partecipato oltre 3500 geometri solo che poi alla fine di questo seminario hanno chiaramente chiesto una marea di domande sono oltre 160 domande e lì con i relatori che erano diciamo gli esperti di tre grosse compagnie assicurative abbiamo risposto ad alcune domande ma chiaramente non c'era spazio per rispondere a tutte per cui abbiamo istituito questo nuovo seminario del 4 marzo che sarà dedicato esclusivamente alle domande che hanno fatto giovedì scorso quelle che faranno chi si iscrive invece a questo seminario qui perché possono anticipare domande via forum e i relatori daranno risposte precise alle domande quindi è proprio un seminario dedicato alle domande relative risposte poi il 17 marzo invece ci sarò io come relatore che presento io sono un po' diciamo esperto di topografia e in particolare di riconfinazioni che sono le quando i due confinanti vanno in causa perché uno dice che quell'altro gli ha invaso la proprietà e lì farò un seminario dove in pratica parlerò di questo nuovo algoritmo calco combinatorio per risolvere le riconfinazioni da mappa cioè quando il confine va ricavato alla mappa poi c'è un corso che partirà l'8 di aprile tenuto da un avvocato quindi avvocatessa perché è una donna molto molto esperta ha già tenuto diversi corsi con noi e terrà un corso sulla responsabilità professionale del geometra quindi dirà a quali a quali conseguenze può andare incontro un geometra nel nell'espletare il ruolo di direttore dei lavori di progettista di coordinatore per la sicurezza di diciamo gestore della pratica superbonus perché sapete anche lì sul superbonus se poi c'è qualcosa che non va l'agenzia delle entrate può richiedere indietro tutto tutti i soldi lo sgrado fiscale per cui è importante in aprile sempre io con altri due colleghi teremo un corso completo su pregeo base avanzato poi c'è questo corso che ci ha mi hanno chiesto in tantissimi cioè qui ci sarà un geometra molto esperto di pratiche superbonus che ne ha già prodotte diverse e lui farà un corso dove presenterà effettivamente una serie di lavori di pratiche superbonus che lui ha già svolto e dirà esattamente passo passo come le ha svolte quindi un corso molto molto pratico che è poi quello che interessa chi si occupa di superbonus poi in maggio torneremo sulla topografia sapete che lì adesso in topografia il drone sta prendendo piede e anche qui questo è un tecnico qui del trentino che è molto molto esperto di rilievi topografici con il drone e anche lui farà vedere una serie di rilievi fatti con il drone e come poi vengono restituiti eccetera quindi sempre corsi molto molto pratico io direi che allora ho finito adesso carlo torno qui sul webinar e ti passo la palla quindi vediamo se riusciamo a vedere il tuo schermo allora andiamo qui assegno al relatore tu dovresti adesso vedere la classica domanda mostra schermo ok ok vediamo il tuo schermo ti sentiamo io sì sì io auguro a tutti una buona attenzione e ti passo la parola allora ti ringrazio ancora gianni e io ovviamente porgo il buonasera a tutti i partecipanti a questo webinar io sono carlo florio specialista di prodotto geospaziale della crisel che è basata in roma come già anticipava gianni e sono molto lieto di essere qui a partecipare a questo webinar da rilievo scanner al modello 3d su sketch up durante il quale io curerò la prima parte che è quella relativa all'esecuzione del rilievo speditivo questo rilievo viene eseguito con un laser scanner della geoslam ecco noi approfitto subito per dire noi della crisel siamo distributori chiaramente della geoslam sul territorio italiano ma chiaramente il laser scanner che esegue questo rilievo dinamico ci sono varie tipologie noi oggi quello che vedremo è quello appunto specifico della geoslam consente quindi questo rilievo in movimento i dati che noi andiamo a rilevare saranno poi successivamente inviati sotto forma di nuvola di punti a sketch up a trimble scan essential quindi marco l'architetto marco chiarello eseguirà la seconda parte di questo webinar nel quale appunto otterremo il modello 3d e successivamente anche le tavole vi daremo tutti i nostri riferimenti per eventuali domande anche nei giorni successivi in modo tale che se ci volete contattare ovviamente noi rimaniamo a disposizione uno degli scopi di questo webinar è quello di informare tutti quanti sulle reali tutti voi partecipanti sulle reali potenzialità di questa tecnologia e anche della sua accessibilità economica grazie anche alla formula del noleggio vedremo alla fine insomma una formula che noi di crisi l'abbiamo pensato anche per agevolare questa tipologia di approccio questa slide come vedete ci potete vedere ci sono tanti laser di tipologia diversa di configurazione diversa sono sempre tutti della famiglia geoslam ripeto e ognuno di questi ha una sostanzialmente un utilizzo a seconda dell'ambiente che io vado a rilevare questo non significa che sugli altri ambienti non funziona ma che principalmente è più adatto ad essere utilizzato in un ambiente di un certo tipo nella fattispecie vediamo che ci sono nella prima linea ci sono quelli che vengono utilizzate principalmente in interni nella seconda quelli in esterni ambiente misto e poi mini re cave come ripeto qua si tratta di spesso si tratta sempre dello stesso laser scanner però con una configurazione diversa quindi per esempio sulla prima riga trovate laser scanner con una tablet per rilevo in tempo reale in cui riesco a vedere in pratica i dati che sto rilevando mentre sto percorrendo il mio percorso qui in questa seconda casella vedete ci sono delle ci sono delle fotocamere e che sono particolari questa qua è una camera pano a 360 che fa un delle foto a 360 gradi ma avremo l'occasione di vederlo perché vi farò vedere proprio risultato fatto con con questa tipologia di configurazione e qui in fondo c'è un discovery che invece dove c'è una camera sempre a 360 gradi ma molto più avanzata che serve per più che altro viene utilizzata soprattutto per rilevi per la smart city tutti questi laser scanner utilizzano la tecnologia slam e adesso darò un breve cenno sul significato e come funziona in modo tale da dare un'idea della tipologia di lavoro che viene fatto slam sta per simultaneous localization e mapping quindi significa sostanzialmente come si capisce dal da robottino che che vuole sapere dove sono in che luogo mi trovo lo riconosco e allora ecco che ci aiutano proprio questi sensori quindi in questo caso il nostro laser scanner utilizzando questa tecnologia slam in qualche maniera grazie ai suoi ai suoi sensori che sono l'imu e il il laser stesso riescono successivamente diciamo a produrre quello che è il risultato di darmi la nuvola di punti ma andiamo a vedere nel particolare quello che succede con il laser io ho delle misurazioni dei dati quindi che sono le misurazioni e collimo invece ho dei dati che sono dati di posizione da questi attraverso il riconoscimento delle feature e vedremo successivamente che intendiamo specificamente per feature ottengo una registrazione dei punti che vado a misurare questi punti tutti insieme formano la mia nuvola e usate un attimo e quindi io alla fine ottengo una nuvola di punti registrata quali sono i benefici i benefici chiaramente che sono riportati anche in questa slide di rilevo innanzitutto in movimento quindi non ho necessità di fare stazionamenti e poi di spostarmi con la mia stazione base eccetera non ho necessità di avere il gps che mi dia la posizione e ho anche una mosaicatura una mosaicatura automatica per cui non c'è bisogno di avere target o sfere per combinare le varie parti di rilievo come avviene per altre tipologie di strumenti di laser scanner quindi questa tecnologia SLAM sostanzialmente è utilizzabile in tutti gli ambienti e permette di rilevare anche zone al coperto e di difficile accesso tornando una mappatura 3d accurata e senza appunto utilizzare necessità di gps vediamo ora cosa intendiamo per feature facciamo un parallelo con il gps qui a sinistra avete il gps chiaramente il gps lavora utilizza la distanza con i satelliti per determinare la posizione del punto su cui io sto stazionando sostanzialmente facendo un'analogia un paragone le feature che sono in pratica gli spigoli gli angoli degli oggetti che sono durante sul mio percorso di che sto eseguendo dove sto eseguendo il mio rilievo non fanno altro che fungere diciamo tra virgolette da satelliti per cui ottengo alla fine spostandomi lungo il mio percorso ottengo la posizione che io ho durante il tragetto le coordinate dei punti mano a mano che che vado a eseguire il mio rilievo e alla fine ho tutte le coordinate di questi punti e una nuvola di punti che è coerente quindi sostanzialmente ricostruisce l'ambiente circostanze le circostante che ho che ho percorso quindi le feature come dicevo prima non sono altro che questi punti specifici che come possono essere può essere lo spigolo un angolo anche un oggetto che facilmente diciamo individuabile è importante che sia fisico ovviamente perché deve essere rilevato nella stessa posizione più volte durante il mio percorso un altro elemento importante soprattutto per la precisione del rilievo è la possibilità di avere la chiusura del loop dove per loop in andiamo il percorso quindi in questo nella parte sinistra di questa slide vedete che io tipicamente si inizia in un punto il percorso e si termina lo stesso percorso nello stesso punto iniziale qui a destra si vede sempre l'inizio alla fine nello stesso punto ma in aggiunto a questo in questa pianta quindi io vedo che vado a formare dei loop anche su degli oggetti fermi che che fungono da feature appunto quindi da da quelle famose feature che mi consentono di aumentare la precisione la chiusura del loop si può avere sia orizzontalmente che verticalmente quindi questa è una sezione vedete io in questo caso una serie di scale e attraverso queste scale riesco a chiudere il loop in verticale anche in questo caso ho un miglioramento della precisione del rilievo che vado ad eseguire passiamo ora a vedere qual è il flusso di lavoro il flusso di lavoro che si ha tipicamente per un rilievo con un per un rilievo in movimento in questo caso io ho una fase di cattura dei punti quindi di rilievo dei punti in cui io percorro le stanze i piani da rilevare con il mio laser scanner geoslam una fase successiva una volta terminata questa dalla cattura dei punti li vado a processare attraverso questi punti questo file che contiene il mio rilievo viene importato in un software si chiama geoslam hub dove questi dati sono processati e viene generati viene generata la nuvola di punti dopodiché posso visualizzare questi questa nuvola di punti e fare anche una serie di verifiche affinché questi dati siano effettivamente giusti rispetto a quello che mi aspettavo dal mio rilievo quindi riesco a fare una prima analisi infine vado a terminare probabilmente in ufficio utilizzando il mio CAD in questo caso ne utilizzeremo Trimble Scan Essential e SketchUp per estrarre piante e sezioni e realizzare il modello 3D perdonami Carlo se ti interrompo ci sono un paio di domande sulla precisione sì questa era una cosa importante che volevo allora è assolutamente importante la precisione allora in questo caso la precisione che in qualche maniera avete capito è vincolata anche al modo di eseguire il rilievo è 1 3 centimetri quindi questo è tipicamente il risultato stavo dicendo adesso passiamo c'era anche un'altra domanda scusami Marco non sono se le vedi le box delle domande c'è ce ne sono tre domande proprio sulla precisione ah ok va bene questo era importante ovviamente a chiederlo subito perché è qualcosa che è fondamentale sì visto che è ben interrotto sì qui ormai visto che siamo sul tema c'era anche Andrea che diceva il movimento è meno preciso no no il movimento è quello sostanzialmente che aiuta l'algoritmo slam ad essere più efficace in qualche maniera quindi è quello che sostanzialmente è fondamentale è proprio la presenza di feature nell'ambiente che sto rilevando quindi la possibilità di individuare dei punti singolari specifici come possono essere come ho detto precedentemente gli angoli gli spigoli quindi qualsiasi cosa o anche i mobili ad esempio che hanno una loro specifica forma quindi sostanzialmente sono quelli che vanno più a qualificare meglio il mio ambiente da rilevare ma sostanzialmente diciamo che noi eseguiamo e abbiamo già eseguito eseguiamo normalmente rilievi noi ovviamente tutti i nostri utenti i nostri clienti fanno rilevi un po' dappertutto è importante cosa seguire il flusso in particolare una cosa che sostanzialmente un po' trascurato precedentemente nella slide precedente è la pianificazione come qualsiasi rilievo d'altronde immagino l'esperienza di chi lavora sul campo lo sa è fondamentale di eseguire un sopralluogo del sito che si va a rilevare e quindi in questa maniera chiaramente io devo avere un pensiero già rivolto alla tipologia di rilevo che eseguo con il mio laser scanner dinamico con il mio Geoslam lo valuto e identifico già quindi comincio già a pensare qual è il percorso che andrò a eseguire in modo tale che ottengo le famose chiusure di loop che come vedete aiutano a legare insieme le varie nuvole di punti che mano a mano il laser scanner va a rilevare ecco poi c'erano due domande uguali di diego e di walter che dicono 1 3 centimetri di errore ma su quale distanza scusami un attimo ripetere la domanda dice no tutti e due dicono 1 3 cm di errore ma su quale distanza no allora la distanza in funzione del regge del range del del laser nel nostro caso ecco il range è quello che fa la differenza sulla tipologia del laser scanner che abbiamo vi che avevo indicato all'inizio ad esempio il laser se vado un attimo dietro giusto per per far visto ci troviamo ecco ad esempio il laser scanner questa tipologia del scanner per interni a un range che è di 30 metri mentre invece per gli esterni questo laser scanner qui a 100 metri di range quindi è chiaro che in funzione del range del laser scanner c'è una diversa individuazione delle feature quindi dei punti singolari che vado poi che mi aiuteranno a determinare la mia nuvola di punti a renderla più precisa possibile chiaramente questo discorso qua viene analizzato al momento in cui un utente ha delle specifiche necessità sia per il diciamo per il noleggio sia per l'eventuale acquisto di una strumentazione di questo tipo viene fatta proprio un'analisi di quel tipo e come avete visto ci sono varie tipologie di laser scanner e anche gli accessori sono importanti quindi tipo di camera che si utilizza per il video per le foto 360 e così via quindi in funzione del della tipologia prevalente perché poi ovviamente io posso utilizzare lo stesso laser scanner non solo per l'esterno per l'interno anche per l'esterno e viceversa quello per l'esterno anche per l'interno però chiaramente se io devo utilizzare un per una tipologia interna magari quello esterno è sovrabbondante se io ho l'ottanta 90 per cento di lavoro che faccio in indoor all'interno è sufficiente avere quella tipologia di laser scanner che magari anche un po più economica rispetto a un'altra tipologia che invece oltre ad essere un po più costosa è sprecata se io lavoro nell'ottanta 90 per cento per gli interni ok allora guarda siccome qui le domande stanno arrivando un buon numero però io direi che se che tu vai avanti pure poi io le tengo qui monitorate poi alla fine perché sennò e qui vedo che anticipano anche cose che magari tu staresti per dire fra un po capito quindi esatto già infatti è quello che dicevo cioè magari sono delle cose che io adesso dirò nel proseguo e oltre a scatenare altre domande ovviamente si metterò altra carne al fuoco magari rispondo già a qualche domanda durante la cina esatto esatto poi io direi che passiamo la palla a marco e poi le domande sia quelle per te sia quelle per marco alla fine chi vorrà rimanere eventualmente ne leggiamo almeno alcune e diamo risposta alla fine insomma via perfetto quindi stavo parlando del workflow quindi prima di tutto il primo tipicamente quello che si consiglia è quello di pianificare il un sopralluogo sul sito da rilevare nel nostro caso come come vedete qua nell'esempio che abbiamo fatto che faremo oggi diciamo pratico cioè noi abbiamo eseguito proprio un rilevo di questo tipo abbiamo poi successivamente marco genererà tutti gli elaborati per questa tipologia di villetta che abbiamo che abbiamo rilevato noi abbiamo sostanzialmente una documentazione ad esempio fotografica così vi do anche l'idea un'idea più precisa e vi mostro adesso qualcosa che che è un accessorio dell'ase scanner quindi in effetti è qualcosa che sia dopo il rilevo però io ve lo faccio vedere adesso per darvi un'idea proprio del sito che abbiamo che abbiamo rilevato allora vado un attimo nel ecco qua vedete io sono dentro al a un viewer nel quale ho la piantina che ho rilevato che è messa in relazione a delle posizioni in cui sono state prese delle delle fotografie sferiche a 360 gradi con quello quella macchina fotografica a 360 gradi che è il pano quindi io vado qui e in funzione del punto che vado a individuare vado a determinare la mia vista a 360 gradi quindi il pallino colorato sta a indicare quello blu che è a piano terra perché qui abbiamo una villetta che ha un piano piano terra un primo piano un secondo piano quindi blu piano terra verde primo piano e giallo secondo piano quindi in questo caso se vado a vedere al primo piano qua relativamente alla stessa posizione sono in una certa stanza se vado nel salone ecco questo è il salone quindi questa documentazione sostanzialmente questo strumento ha una valenza ovviamente anche in fase di post processamento quindi quando io poi vado a generare la nuvola di punti questa documentazione fotografica che io ho in questo formato che è molto comodo mi aiuta anche a determinare tutta una serie di informazioni che magari la nuvola di punti non mi spiega in maniera precisa invece la fotografia mi chiarisce in maniera definitiva quello che è il risultato comunque questo la pianificazione mi ha dato diciamo un po l'opportunità di parlare anche di questa di questa funzione che è possibile avere e qua vedete è una fatta sempre all'esterno sempre con la stessa camera a 360 gradi e comunque ritornando al al workflow era giusto per dire che io vado a vedere e mi sono andato a vedere quelle che sono le scale gli accessi i balconi in questo caso la villetta era abbastanza semplice diciamo da rilevare però quando si tratta di ambienti molto articolati e buona norma andare a fare una un sopralluogo per non avere poi sorprese e successivamente quando vado poi a realizzare il mio modello 3d il mio modello 3d e rilevo ovviamente passiamo alla fase successiva avendo pianificato avendo definito già il mio percorso mentalmente dove parte eccetera quindi a questo punto parto con la cattura quindi che cosa faccio io percorro le mie stanze i piani con il mio laser ed eseguo tutto il rilievo vi faccio vedere in questo brevissimo filmato il setup rilievo la chiusura abbiamo realizzato un minuto e mezzo di filmato e soprattutto la prima parte accelerata che è quella di setup in cui vado a collegare vedete questo qua il data logger quello è l'ase scanner il mio collega Paolo Di Giusto sta sta montando il tutto c'è anche un tablet un mini tablet che è un cellulare poi fondamentalmente che wifi si collega al data logger e mi dà l'opportunità quindi di far partire rilievo dare un nome a rilievo come avviene in tutti i rilievi che si che si eseguono dopodiché successivamente vado a proprio a premere il tasto di inizializzazione dell'ase scanner che inizierà a ruotare adesso vedete qui eccolo inizia a ruotare inizia a rilevare i punti adesso per brevità noi abbiamo abbiamo fatto questo filmato faremo chiaramente un giro intorno al tavolo e quindi parto dal punto iniziale eseguo il mio rilievo è una camminata normale non passo normale spedito non è un problema come capite qui in questo ambiente di feature ce ne sono tantissime perché ci sono tutti i mobili spigoli eccetera qui siamo alla chiusura vedete qui a questo punto riprendo il tablet do lo stop come vedete già ho la possibilità di visualizzare l'ambiente che ho rilevato a questo punto non faccio altro che fermare il laser scanner e così ho terminato diciamo questa fase quindi di rilievo vi faccio vedere uno stralcio di quello che è stato il rilievo della villetta sempre oggetto oggi di questa del nostro del nostro esempio in particolare vedete qui c'è questa scaletta molto angusta molto molto stretta eh questo per per farvi vedere che il il laser scanner soprattutto questo che che dà la possibilità di avere un rilievo in movimento è proprio indicatissimo per una situazione del genere dove ho archi eh voltine eh nicchie eh insomma situazioni che andarle a rilevare in maniera puntuale con i sistemi tradizionali è abbastanza complicato ma anche con un laser scanner se dovete montare un treppiedi eccetera quello statico è lo stesso è una cosa abbastanza cioè molto molto complicata poi si può fare tutto però insomma è abbastanza complicata quindi questo era per il discorso successivamente alla alla fase di rilievo abbiamo visto che c'è la fase di eh di processamento che viene fatta con geoslam hub in cui il risultato del mio rilievo che è un file questo file viene sostanzialmente dato in pasto quindi viene proprio eh messo come cut and past a geoslam hub che elabora e genera la mia nuvola di punti quindi bisogna aspettare pochissimo tempo dipende poi dalla mole di dati ovviamente eh e si ottiene la nuvola di punti quindi a questo punto posso oggi notare la mia nuvola di punti sempre nel in questo io faccio l'esempio ovviamente di geoslam sempre in geoslam hub ho la possibilità di visualizzare i dati tutti i dati rilevati sul computer quindi io ho generato ho processato ho terminato il processamento a questo punto vado a verificare dentro geoslam hub nel visualizzatore quella che è la nuvola di punti nel nostro caso adesso vi faccio vedere questa è la nostra villetta io geoslam hub ecco qua che vado da vedere la mia nuvola di punti come vedete è consistente in realtà si vede che io girando intorno ho anche preso tutta la parte esterna e posso diciamo ancora meglio andare a vedere facendo delle sezioni in questo caso il software di processamento individua anche i piani e quindi qua vedete piano terra primo piano e secondo piano quelle tracce in rosso sono il percorso che io ho seguito per eseguito per eseguire questo rilievo vi faccio vedere anche il modello 3d con varie sezioni giusto così per sempre per per capire se effettivamente ho eseguito tutto in maniera in maniera corretta dopodiché ecco una volta che la nuvola di punti ho verificato che è consistente e idonea insomma rispetto a quello che mi aspettavo posso esportare questa nuvola di punti potrò esportare questa nuvola di punti per sketch up quindi questo è anche se questa possibilità alla fine vedremo poi marco chiarello che prenderà questa nuvola di punti e la tratterà per ottenere i famosi elaborati che sarebbe appunto questa parte qua in cui vado a creare utilizzando trimbo scan essentials e sketch up ottengo tutti gli elaborati e il modello 3d questo qui è il filmatino che avete visto quando vi siete iscritti a questo webinar allora l'ho messo qui dentro come parte relativa ma ovviamente sarà ampiamente sviluppato da dall'architetto chiarello nella seconda parte di questo di questo webinar ecco diciamo siamo quasi alla alla fine di questa di questa parte di questa prima parte volevo dare una tempistica perché è importante anche capire per quale motivo è utile avere eseguire un rilievo di questo tipo il rilievo di questa villetta è stato minore di 22 minuti 21 minuti e 36 secondi perché ovviamente c'è un filmato che segue passo passo quello che io faccio quindi c'è proprio il tempo misurato misurato al secondo il processamento di una di questa nuvola di punti è circa di tre minuti e la visualizzazione però quello poi ovviamente adesso l'ho semplificata in circa nell'ordine del minuto ma è in funzione di di quanto io sto a dettagliare il mio controllo volevo un po diciamo farvi che diciamo così un riassunto con questa tabellina che sulla destra tanto per dire che per una generazione di un modello 3d o di piante sbilt e di un modello in digital twin vedete questo è il classico modo di eseguire la progettura una procedura standard quindi col topografo strumenti più o meno tradizionali e abbiamo quantizzato nella media con l'esperienza che abbiamo noi poi magari può essere un po di meno può essere un po di più dipende dalle situazioni il modello sia in circa due settimane ovviamente facendo nel nostro caso i benefici risparmi miglioramenti con un lase scar con un rilievo di questo tipo quindi speditivo io ho una serie di vantaggi che sono chiaramente che io una volta che ho rilevato ho tutti i dati tutte le informazioni necessarie il rischio è veramente bassissimo che non ho rilevato delle misure perché posso andare sulla nuvola e prendermi le misure tutte le misure che ho io ho anche delle misure diciamo sovrabbondanti rispetto a quelle che possono essere strettamente necessarie per realizzare i miei elaborati quindi se basso rischio ovviamente quindi di conseguenza di ripetere il rilievo e i dati sono completi i dettagli come abbiamo visto in quella documentazione fotografica che vi ho fatto vedere molto velocemente sono ottenuti proprio con la parte fotografica quindi se ho dei dubbi attraverso la parte fotografica riesco a fugare e a interpretare correttamente la nuvola di punti in ogni suo particolare per la creazione di un modello digitale ho un rilievo veloce e consistente cioè alla fine io già nella fase di verifica riesco a vedere che ho ottenuto il risultato che mi aspettavo poi di base normalmente noi facciamo anche dei delle misure con il laser eh per essere sicuri per certificare sostanzialmente quello che è il rilievo che abbiamo effettuato e quella famosa precisione che dicevo prima uno tre centimetri tipicamente noi la andiamo a verificare sul campo quindi ci andiamo a prendere delle misure poi in diversi ambienti e poi andiamo a misurarle ovviamente sulla nuvola di punti sugli elaborati che andiamo a generare ottenendo dei risultati che sono anche sotto alcune volte sono anche al minore del centimetro però diciamo giusto nella media siamo sempre all'interno del range previsto che è uno tre centimetri a questo punto eh volevo intanto ringraziare per questa prima parte e come come avevo detto prima aveva abbiamo pensato diciamo ai partecipanti di questo webinar di riservare oltre a condizioni economiche che vedete qui riportate eh una un'agevolazione economica sia per la parte di rilievo che che eventualmente che può essere fatta come noleggio che eventualmente sull'acquisto di di uno strumento di questo tipo oppure ecco la formula rent to buy giusto per spiegare un attimino significa che magari inizialmente noleggio lo strumento eh quel noleggio che io eseguo inizialmente poi mi viene riconosciuto eventualmente io volessi acquistare lo strumento in maniera definitiva questo eh è un modo anche di ringraziarvi per la partecipazione bene passo la parola all'architetto Chiarello eh sì scusa Carlo scusa eh sì sì adesso passo io la parola a Marco volevo ah grazie sì sì no volevo dire semplicemente qui domande ce ne sono tante ce ne sono anche già alcune che riguardano SketchUp e anzi Marco adesso io ti passo qui il ruolo di relatore e ti anticipo già una prima domanda perché vedo che l'hanno fatta in diversi e dicono semplicemente ma qui eh che versione di SketchUp bisogna avere perché io ne ho una del 2015 gratuita servo serve la versione a pagamento quale di quale versione ecco se magari vuoi dire già questo così questi che hanno chiesto tutti questa domanda qua hanno già una risposta sì è compatibile fino a SketchUp 2019 bene ok allora direi Marco tu vai pure poi le domande per la parte di rilievo poi le diremo alla fine vedremo cosa riusciremo a fare e magari poi anche quelle per continuare a parte di SketchUp ok sì buonasera a tutti vado sì 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 vai vai Marco ok buonasera sono Marco Chiarello sono specializzato su SketchUp e su altri strumenti digitali diciamo per l'architettura e qui vi esporrò il passaggio seguente c'è una linea abbastanza netta a mio avviso fra quanto ha svolto collega Carlo gentilmente e quello che viene dopo c'è proprio un passaggio di consegna ad un certo punto dall'estrazione della nuvola di punti si passa poi ad un altro strumento che è SketchUp parto proprio da qui questi sono i cinque punti della mia esposizione di oggi perché SketchUp prima cosa perché magari alcuni di voi proprio non lo conoscono quindi si chiedono perché devo passare che caratteristiche ha SketchUp per cui ha senso adottarlo il secondo punto è Trimbo Scan Essential che cos'è questo plugin che installo in SketchUp che mi consente di eseguire l'importazione della nuvola come eseguo questa modellazione delle forme 3D come preparo l'estrazione degli elaborati e come finalmente ottengo i miei elaborati finali che ce lo diamo un po' come obiettivo poi gli obiettivi potrebbero essere tanti fare computi fare realtà virtuale fare rendering ma diciamo ci concentriamo su quelli quindi vado con qualche slide inizialmente per riassumere molto brevemente che cosa consiste SketchUp è innegabile che sia facile da usare è veloce ed è implementabile è facile da usare lo direbbe chiunque chi quello sperimenti è veloce nel senso che riesce a gestire anche file complessi è sempre molto veloce nella visualizzazione riesco a muovere rapidamente entrare uscire dalle forme 3D che creo ed è implementabile attraverso plugin esterni appunto come Trimbo Scan Essential due parole rapide su SketchUp è un software che fa parte di una suite che si chiama SketchUp Pro che comprende anche layout Marco scusami voglio dirti questo siccome qui abbiamo anche i miei colleghi geometri i quali hanno nozioni informatiche per carità però magari il termine plugin non tutti lo conoscono ecco se vuoi precisare cosa significa esattamente perché molti non lo sanno certo si tratta di uno strumento aggiuntivo un programma che io aggiungo all'interno installo all'interno di SketchUp come una app aggiuntiva su cui torno fra poco comunque perfetto grazie della segnalazione Gianni e per abitudine ho detto plugin sono andato via dritto ma è giusto precisare ci sono poi dicevo oltre a questa suite che SketchUp Pro è una serie di strumenti esterni cui assolutamente non ho intenzione di dilungarmi ma che è giusto far presente che ci sono perché SketchUp è uno strumento molto connesso non è che crea il modellino ed è finita lì non è come un CAD in cui disegno linee e non ottengo altro che linee SketchUp è molto molto di più è un ambiente in cui creo modelli tridimensionali è layout in cui impagino i miei elaborati come farei nel CAD ma qui sono due software che viaggiano parallelamente e sta il builder per personalizzare ulteriormente gli aspetti grafici questa è la suite diciamo SketchUp Pro detta veramente in due parole all'interno di SketchUp cosa ci sono anche qui ci vorrebbero ore per parlarne perché sono tanti strumenti molto trasversale come strumento già i suoi strumenti di modellazione interni posso importare file CAD posso personalizzare materiali e aspetti grafici fare foto inserimenti e modellazione da fotografie che è già questo di per sé è uno strumento interessantissimo all'interno di SketchUp posso importare modelli 3d del terreno direttamente da open street map con tanto di foto satellitare applicata sopra posso lavorare con oggetti di tipo dinamico scusate c'erano pure le immagini non mi sa che non si erano viste le faccio vedere ora questa è l'importazione file CAD questa è la personalizzazione delle dei materiali il la creazione di foto inserimenti e modelli da fotografie questo ne è un esempio con le foto che diventano parte integrante del modello diventano delle texture applicate sul modello dicevo poi l'importazione del terreno 3d direttamente dentro a SketchUp per tutte le valutazioni del caso l'inserimento anche di grandi opere la costruzione di componenti dinamici quindi modelli configurabili che posso costruire direttamente dentro a SketchUp o utilizzare quelli fatti da altri quindi parametrici con dimensioni materiali o chissà quali altri variabili già incorporate all'interno posso estrarre tutto questo sotto forma di computometrico questo solo per dare un'idea di quale varietà già di per sé SketchUp abbia gli strumenti esterni che ci sono li cito come dicevo brevemente per non dilungarmi sicuramente su queste risorse esterne ma ma appunto per farci un'idea di quanto interconnesso sia questo strumento che è SketchUp 3d warehouse che è la galleria online di oggetti gratuiti da scaricare l'extension warehouse di strumenti aggiuntivi che vengono detti normalmente plug-in add-on estensioni eccole chiamiamole estensioni va benissimo di cui ad esempio Trimble Scan Essential fa parte SketchUp Free è la versione online molto limitata peraltro come strumenti ma poi via gira soltanto online quindi comunque devo essere sempre connesso per utilizzarla ma c'è pure lei Trimble Connect che è la piattaforma di gestione archiviazione dei progetti condivisione dei dei file posso mi permette tra l'altro di creare dei modelli collegati fra di loro di SketchUp magari professionisti diversi che contemporaneamente lavorano allo stesso progetto i vari viewer per la realtà virtuale la realtà aumentata da telefono da visori indossabili e l'ultimo in ordine di tempo arrivato pre design una piattaforma di valutazioni di tipo energetico per il tipo di ambienti a seconda che io stia facendo un edificio a destinazione abitativa ufficio che altro mi permette di avere delle informazioni in più insomma sulla località in cui sto andando a progettare questo per avere un'idea di quello che è SketchUp in generale oggi ci concentriamo in particolare di uno strumento aggiuntivo quindi verticalizzo SketchUp verso quello specifico ambito in cui ho intenzione di utilizzarlo come in altri casi c'è chi si installerebbe magari contemporaneamente o strumenti per il rendering strumenti per che so simulazioni acustiche posso installare anche Trimble Scan Essential quindi uno strumento ufficiale di Trimble proprietaria di SketchUp stesso specifico per il trattamento delle nuvole di punti e qui passiamo a una parte pratica comincio a farvi vedere un po' l'esempio più da vicino tre punti allora su Trimble Scan Essential l'importazione della nuvola che strumenti di visibilità ci mette a disposizione e che strumenti per agevolare il passaggio poi alla modellazione 3D esco un attimo dalla presentazione e andiamo a vedere una nuvola importata questo ad esempio è un file una nuvola del villino che vedevamo prima che è già stato importato questa è la barra di strumenti di Trimble Scan Essential lo vediamo non ci sono tantissimi pulsanti ed è una buona cosa è una normalità in SketchUp può avere pochi pulsanti ma buoni c'è la possibilità quindi di importare vari formati e 57 LAS e LAS questa nuvola qui pesa 950 megabyte circa ed è un riferimento esterno questo pannello che vediamo sulla sinistra mi permette di capire proprio qual è il link esterno alla nuvola Trimble Scan Essential crea un suo file di sistema a cui poi va a fare riferimento e il file di SketchUp rimane molto leggero questo su cui sto lavorando ora pesa meno di un megabyte potremmo andare a vedere sono qualcosa come 600 kilobyte quindi è un riferimento esterno leggerissimo il modello quindi riesco a muovermi molto rapidamente questa è la nuvola tutta intera quindi come si può vedere con un leggero ritardo poi viene visualizzata tutta però intelligentemente fa sì che io finché sono in movimento se ne veda una versione un po semplificata leggermente semplificata ci sono varie modalità di visualizzazione dunque disattivarne la visualizzazione questo è quello che c'è in questo modello per ora nulla se non la figura che ogni volta si trova una volta che serviva SketchUp che è molto importante peraltro perché da l'idea delle dimensioni dello spazio in cui ci si trova pulsante con cui vedere poi al 50 per cento di opacità la nuvola al 75 per cento vari tipi di ombreggiatura shading qui viene viene chiamata le vediamo meglio sulla sinistra queste opzioni grafiche questa finestra non ho fatto altro che aprirla in questo modo mi mette a disposizione un cursore con cui regolare l'opacità come mi pare dimensioni dei punti punti che sono a milioni ingegner carlo ci saprebbe dire con più precisione di quanti punti si tratta qui è quasi difficile riuscire a capire cosa quale sia il soggetto infatti fra poco passeremo a capire come gestire la visibilità per passare alla modellazione e poi ci sono tutta una serie di altri aspetti di colorazione in base all'asse z in base alla densità con ombreggiatura senza ombreggiatura se ci sono diverse nuvole le posso colorare di colori differenti posso gestirne un sezionamento ecco ultimo punto sul questo parte è il fatto che ci sono questi poi pulsanti di snap senza nessuno snap oppure snap prioritario la nuvola o snap prioritario al geometria che ci sono già in sketch up snap vuol dire ancorare il mio disegno direttamente ai punti posso letteralmente andare a disegnare linee facendo riferimento ai punti presenti che non è poco perché fanno quindi da tramite tra la nuvola che è quasi impalpabile altrimenti e le geometrie 3d che sto realizzando all'interno di sketch up ci sono questi ultimi due strumenti per creare dei riferimenti singoli punti oppure linee di riferimento però per i passi seguenti passo ad una versione che io ho richiesto ai colleghi che me la dessero un po alleggerita perché quella quantità di punti era addirittura quasi troppa e quindi questa nuvola qui su cui adesso farò vedere il resto della esposizione pesa soltanto 20 megabyte addirittura me ne hanno data una di 5 megabyte in cui la semplificazione era quasi addirittura troppa però faccio vedere non sto lavorando su file che hanno una pesantezza pazzesco devo lavorare con computer potentissimi affatto se vediamo qual è infatti il prossimo passaggio nella presentazione vedo che nel frattempo compaiono domande anche su youtube non vogliatemene se magari vi rispondo dopo rischiamo di andare magari di dilungarci un po sì sì no marco come abbiamo detto no alla fine come ce n'erano tante anche per carlo io poi dopo ne leggo un po vediamo che tempo rimane da lì facciamo dopo dibattito ecco esatto costruzione del modello anche qui tre punti allora strumenti di modellazione di sketch up in primis con gli strumenti stessi di sketch up creo le forme usando la nuvola come riferimento sullo sfondo se vogliamo inserimento di oggetti dalla galleria online che ci sta sempre bene non dimentichiamo che sono milioni di oggetti che posso scaricare qualsiasi momento certo in questo caso più che altro perché era un po di ambientazione ma in una presentazione ci possono sempre stare bene e ci sono poi anche tantissime altre estensioni che posso andare ad aggiungere per l'impiantistica per le strutture che mi facilitino la costruzione di questo modello torniamo al modello questa volta in cui ho realizzato il modellino quindi la nuvola come vediamo come abbiamo visto è abbastanza densa è difficile da leggere mi basta in sketch up passare da una modalità prospettiva una proiezione parallela e pormi frontalmente per rendere molto più intellegibile tutto ciò la densità stessa dei punti mi fa capire dove sono pareti superfici continue che andranno poi ricalcate ridisegnate in sketch up io posso vedere di fronte dai vari prospetti sto utilizzando le cosiddette viste standard di sketch up ma posso anche introdurre piani di sezione ne faccio vedere uno già in azione supponiamo del pian terreno io qui in alto mi sono già predisposto tutte le mie scene su cui tornerò fra poco parlarne meglio e mi permette di come si vede spostarmi velocemente fra un inquadratura e l'altra cosa ho fatto io qui avevo messo dei piani di sezione questi sono vari piani di sezione che ho già introdotto che mi permettono di tagliare il modellino e anche la nuvola dove mi pare tra le impostazioni specifiche trimbo scan essential c'è la profondità di campo dal piano di sezione in poi quindi ho posizionato un piano di sezione circa ad un metro e venti dal pavimento e mi permette di vedere solo questa porzione di nuvola questo è un modo ottimale di lavorare a mio avviso faccia nascondo le geometrie che già io ho disegnato questo per farvi capire questa potrebbe essere la situazione in cui ci si troverebbe attenzione mi si è disattivata la si era disattivata al piano di sezione dove eravamo al pian terreno ok nascondo per un attimo le geometrie dicevo questa è la situazione in cui mi potrei trovare all'inizio quindi con una vista in proiezione parallela dall'alto piuttosto che di prospetto al pian terreno alla quota che voglio e cominciare a disegnare come detto c'è uno snap che si può eseguire alla nuvola quindi posso tranquillamente andare letteralmente lungo i punti oppure disattivare questo snap alla nuvola e seguire l'orientamento degli assi ora esagero come si vede sto disegnando delle linee in sketch up tutte le volte in cui si chiude una superficie se ne può poi estrudere una forma non è questo sicuramente il luogo il momento per parlare di come funziona la modellazione in sketch up ma è molto intuitiva gli strumenti di modellazione per intenderci sono sei molto versatili che possono essere combinati fra di loro facili da usare permettetemi di dirlo anche se dire facile sempre vuol dire se possono fare un po sempre aleatorio certo però posso posso garantirlo dopo 15 anni di utilizzo di cui 7 di formazione che sketch up lo si adotta in poco tempo quindi con questi strumenti di disegno vado lungo i muri vado lungo le finestre i bagni e quant'altro e posso pervenire alla costruzione del modello ora disattivo la visibilità della nuvola in modo tale che ci godiamo un attimo il modellino questo non è dettagliatissimo è soltanto un esempio ci ho impiegato diciamo due tre orette si potrebbero aggiungere chiaramente poi anche serramenti la vegetazione ecco questo un esempio di un oggetto banale permettetemi di dirlo ma la palma visto che la si vedeva nella nuova detto beh mettiamo dentro una palma giusto per dire cosa potrei aggiungere se attingo alla galleria online di oggetti così come potrei aggiungere veramente di tutto dell'arredo dei serramenti stessi voglio completare modellino con dei serramenti voglio cercarmi alcuni di già fatti li posso tranquillamente scaricare dalla galleria online che a cui attingo anche direttamente da qui da una finestra comodamente qui sulla destra componenti posso attingere alla galleria online altro strumento a disposizione altra via che abbiamo a disposizione nei momenti in cui stiamo pensando alla costruzione del modello a quello di aggiungere altre estensioni una cosa normale dopo un po di utilizzo di sketch up andare a cercarsi questi strumenti nella galleria da cui scarico trimble scan essential stesso lo posso fare direttamente dall'interno di sketch up da menu finestra extension warehouse oppure da browser lo faccio vedere ora con chrome questa è la galleria eseguo la mia ricerca ci sono centinaia e centinaia di strumenti proprio perché il linguaggio con cui è fatto sketch up è un linguaggio aperto ruby e ci sono strumenti per tutte le tasche per tutte le esigenze ma torniamo in sketch up volevo farvi vedere questo per fare un esempio di un plugin ad esempio scusate estensione 1001 bit che ha dentro strumenti per il disegno facilitato di scale porte finestre travature capite decine di pulsanti in più per l'ambito edile chiudo quindi gli strumenti anche per eseguire la modellazione ci sono tutti passiamo al passaggio seguente se quindi ho costruito il modellino le forme le ho ricavate andando lungo le i punti andando spesso e volentieri attorno al modellino muovendomi fra la vista di pianta una vista di sezione ad un certo punto comincio per disporre le mie viste che saranno quelle che poi andrò ad esportare a stampare quindi come impostare le inquadrature si chiamano scene in sketch up posso far uso delle sezioni un po l'abbiamo già visto poco fa e poi un accenno ad abbina foto che è uno strumento che si sposa con l'ambito del rilievo perché mi permette di vedere proprio una fotografia dell'ambiente ben inserita all'interno del modello con la stessa prospettiva torniamo all esempio chiudo per ora peraltro mi può ancora servire pardon per vedere meglio come funziona profondità di campo delle sezioni come detto queste qui in alto si chiamano scene si tratta di decidere l'inquadratura che ci interessa avere e di aggiungere quell'inquadratura un po come le viste del card classico faccio tornare visibile la nuvola così vediamo pure quella posso avere vista in 3d come questo in prospettiva dall'esterno posso avere viste di tipo sonnometrico posto gestire vari stili di visualizzazione conoscenza i colori potremmo attivare le ombre quindi anche da questo punto di vista ci sono c'è una quantità di impostazioni che si possa dare a scegliere veramente notevole interessante tolgo un attimo la nuova così lo vediamo meglio caratterizzare poi con materiali i nostri volumi le nostre superfici che abbiamo ridisegnato aggiungere quei piani di sezione che facevo vedere prima qui ce ne sono già diversi già aggiunti nelle varie direzioni posso anche fare doppio clic su ciascuno di questi se volessi vedere renderlo attivo vedere il taglio attivo quindi si predispongono queste scene con un piano di sezione attivo e questa inquadratura la chiamerò pian terreno quest'altra la chiamerò pianta del piano primo sono sempre nello stesso modellino quindi i dati sono coordinati non ci può essere un'incoerenza fra questa pianta e questa sezione perché lo stesso modellino che viene tagliato che viene sezionato e questa è una grande potenzialità che in ogni caso c'è diciamo nel 3d in generale qui abbiamo il grande vantaggio di avere sullo sfondo la nuova che in qualsiasi momento posso far tornare visibile posso regolare la profondità di campo della nuvola posso andare anche a due metri se volessi sto facendo questa modifica proprio nel pannello qui di tremor scan essenzial ora ad esempio una profondità di due metri mi porterebbe a vedere fino alle che so tra mezzature dall'altra parte della parete oppure riduco la profondità di campo a che so 50 centimetri per concentrarmi su ciò che si vede esclusivamente nascondo quali vediamo meglio la nuvola se voglio concentrarmi solamente su ciò che viene effettivamente sezionato in questa posizione qui ma da sé che altrimenti il piano di sezione lo posso selezionare e lo posso spostare in qualsiasi momento posso far tornare visibili piani di sezione e spostarli a mio piacimento e come dicevo che c'è veloce intendo con velocità questa cosa qui cioè posso spostare i piani di sezione vedere in tempo reale faccio tornare visibile gli elementi che avevo appena nascosto posso vedere in tempo reale modellino e la nuvola se c'è coerenza tra questi quindi scene inquadrature sostanzialmente piani di sezione dove vogliamo lo strumento abbina foto che è utilissimo in questo ambito mi può permettere di vedere ecco aggancio qui la barra di strumenti ora che l'abbiamo abbastanza conosciuta vista da vicino lo strumento abbina foto che esula da trimbo scan essential ma che è incluso all'interno di sketch up venute le camera abbina nuova foto è uno strumento per cui una volta che ho scelto una fotografia fatta sul luogo magari ricavata dalle foto sferiche vedevamo prima mi permette lo vediamo ora in azione abbina foto sono è questo editor con barre verdi e rosse che mi permette di avere la stessa focale che avevo nella foto che ho nella fotografia all'interno del modellino di sketch up e li rende sovrapponibili queste due cose questo è molto utile e come dire versatile poi come strumento perché lo posso utilizzare per ricavare il modellino stesso con un dettaglio sicuramente bassissimo però addirittura vedendo quelle stesse forme le posso come dire ricalcare oppure posso proiettare la fotografia sulle superfici che io ho creato questo comunque esula può diciamo dall'ambito della nuvola dei punti e diciamo una possibilità in più che abbiamo ecco concludo con l'ultimo punto il quinto esportazione impaginazione ora io da sketch up posso stampare posso esportare direttamente ma una sola vista alla volta quindi ad esempio un determinato abbiamo uno screenshot del cad in cui ho aperto la piantina esporto la piantina e ciò solo la piantina oppure esporto tutto il 3d per carità oppure l'altra strada è quella di usare layout che appunto significa impaginazione e che mi garantisce un collegamento fra il modello 3d e l'impaginazione quindi o nel momento in cui dovessi fare delle modifiche modello 3d posso far sì che in layout tutte le varie quadrature si aggiornino istantaneamente in entrambi i casi abbiamo la possibilità di eseguire la classica stampa vediamo anche qui da vicino diciamo che l'esportazione cad pure semplice è banale mi posiziona nella vista che mi interessa e faccio la mia esportazione che può essere di tipo 3d di tipo 2d di ciò che giace soltanto sul piano di sezione e non delle linee che vedo oltre il piano di sezione quello che vedo quello che ottengo poi nel cad puro e semplice l'altra strada è questa di andare a selezionare invia layout ora io già l'ho aperto ma altrimenti normalmente layout si avvierebbe da solo mi permetterà di scegliere all'interno di quale formato del foglio volessi lavorare e cominci a posizionare le viste all'inizio questo è layout e come si vede un'interfaccia anche qui molto semplice molto veloce all'inizio le auto me ne fa vedere una soltanto di vista questa è una vista del modellino 3d in tutto e per tutto collegata col modello dall'altra parte in cui quindi scelgo quale delle varie inquadrature mi interessa e a che scala la voglio vedere qui c'è l'elenco delle scale mettiamo 1 a 100 come era prima perfetto e quindi li affianco le copie o sono un po come le varie finestre che ci sono normalmente nel layout dei autocad del card classico principio è lo stesso sono molto più quello che vedi quello che ottieni quello che vedi quello che stampi le dimensioni del foglio sono totalmente personalizzabili posso crearmi dei blocchi eccolo qua il foglio quindi dimensioni del foglio il margine stesso del foglio posso far sì che ci sia in automatico 5 mm posso sapere quali sono i riferimenti esterni e se sono aggiornati se io nel modellino 3d magari il collega va avanti a lavorare a modellino 3d di sketch up che è un altro file facebook quello fa delle modifiche dice poi aggiorna qui posso andare a selezionare il riferimento esterno al file sketch up per l'appunto e aggiornarlo e far sì che tutte le viste mi si aggiornino potremmo fare un esempio semplicissimo di cancellare la palma ve la faccio rivedere vista 3d senza una palma e la cancello salvo vado in layout tasto destro su una vista qualsiasi perché tutte fanno riferimento allo stesso modello 3d aggiorna il riferimento al modello nei vari prospetti nella pianta nel 3d la palma sparisce qui nel frattempo avevo fatto anche delle modifiche un po agli stili quindi ha aggiornato anche gli stili grafici c'è un coordinamento di cui bisogna tenere conto insomma chiaramente fra il modello 3d e le tavole qui di tavole ne posso poi fare più di una vengono chiamate pagine posso eseguire una quotatura io qui ho veramente soltanto accennato ho messo qualche tre quote in croce posso mettere simboli posso mettere immagini estratti di mappa tabelle posso inserire computi eventualmente estratti dal modello 3d ad un certo punto della progettazione magari che già sto iniziando a fare dopo aver ricostruito lo stato di fatto dalla nuvola voglio cominciare a fare dei avere delle quantità le posso estrapolare dal modello 3d in cui la progettazione poi prosegue e da qui stampo esporto pdf in dvg in dxf tutte le tavole intere con tutti gli elaborati che ci sono dentro ho stato pura e semplice stampa finale questo è quanto io mi rendo conto che i temi qua sono tanti spero di aver dato comunque una panoramica abbastanza che accenda un fuoco diciamo più che riempire un secchio che oggi il tempo non c'è ma almeno di far vedere quanto si possa essere efficiente questa strada questo spero di aver riuscito a comunicarlo sì marco grazie sei riuscito secondo me benissimo le domande sono tante e questo mi dà ancora una volta un po spunto per fissare poi un corso più dettagliato perché vedo che le domande qui vanno abbastanza in dettaglio adesso io direi che allora comincio a leggere qualcuna ripartendo dalla parte di rilevazione di carlo poi magari passo anche a quelle qualcuna se vedremo quanto tempo ci rimane disponibile anche quelle poi su sketch up carlo tu ci sei sempre sono qui perfetto io comincio con qualche domanda per te qui allora c'è michele che dice la specifica è che se devo rilevare una stanza da quattro per quattro non può rilevare più o meno tre centimetri cioè sembrerebbe michele dire che in una stanza a quattro metri per quattro metri non si può raggiungere questa precisione se capisco bene quello che vuol dire michele non si può raggiungere se lui dice se devo rilevare una stanza da quattro per quattro non può rilevare più o meno tre centimetri lui fa riferimento a una specifica che però non è meglio precisata di così non so tu hai capito quello che vuol dire sì sì allora se rilevo solo una stanza quattro per quattro tipicamente sono sotto a centimetro come rilevo il discorso dell'intervallo del range si riferisce soprattutto adesso faccio un esempio per per chiarire vuoi che ti passi lo schermo se devi fare vedere qualcosa oppure non serve oddio sì ma magari passano la giusto per per dare ok te l'ho passato se ecco perfetto si vede sì 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 perfetto allora se io ad esempio quando quando diciamo l'uno l'uno tre centimetri di cui a cui mi riferisco il tre centimetri in particolare il caso estremo quando io sostanzialmente vado a allora aspetto un attimo che mi metto in una una vista per dare l'idea allora vediamo un po se riesco a bloccare questo no non è questo allora allora ad esempio in questo caso adesso qua vedo le piante allora il tre centimetri che il caso tra virgolette estremo si ha quando ad esempio io se io ad esempio partissi da un ambiente e e avessi due piani però questi due piani diciamo così li vado a rilevare partendo dal primo ambiente poi passo ad esempio passano da questo da questo ambiente qua passa a quest'altra parte poi vado al piano di sopra quindi al piano a questo piano di sopra e faccio questo rilevo le misure diciamo indotte come potrebbe essere il solaio cioè il solaio che io diciamo qua ovviamente come viene alla fine misurato viene misurato attraverso la nuvola di punti che ho rilevato qui nella parte superiore e la nuvola di punti che io ho rilevato in questo primo piano nella parte inferiore adesso spero di dare di dare l'idea ecco quando io sono a una notevole distanza e ho un una misura che sostanzialmente è ricavata non direttamente ma ricavata da in maniera indiretta come in questo caso perché lo spessore di questo solaio è ricavato dal rilevo della parte superiore fatto in questo ambiente e dal dalla parte inferiore quindi diciamo dal pavimento calpestabile invece qua dalla dalla volta che ho alla parte superiore la ci potrebbe essere in qualche caso i famosi tre centimetri che dicevo come caso peggiore ma in una situazione standard in cui ho feature quindi ho possibilità di avere come in questo ambiente avevo sempre io abbiamo avuto una precisione che era in tutti gli ambienti sul centimetro in questa in questa situazione qua sulla nuvola di punti misurata e certificata e se il data sheet dello strumento riporta questa situazione perché in situazioni particolari quando le distanze sono molto diciamo gli ambienti sono molto grandi non ho misure dirette quindi le misure diciamo alcuni spessori sono ricavati potrei ricavate potrei avere potrei arrivare anche a tre centimetri e quella la situazione estrema che chiaramente viene riportata sul data sheet perché è una situazione che può può accadere in qualche caso ecco ok direi che sei stato molto chiaro poi c'è fra domenico che chiede c'è un tempo minimo di permanenza per acquisire i dati allora esatto questo è un altro elemento diciamo che poi si valuta durante la pianificazione però quello che viene consigliato è di non eseguire dei rilievi maggiore di 20 centi di 20 minuti di 20 minuti di rilevo che significa ora qua in questo caso come avete visto erano 22 minuti quindi noi effetti 20 minuti anche 25 30 si può arrivare in questo caso eravamo sotto i 22 ed è andato benissimo il quando si va oltre la mezz'ora tipicamente si preferisce dividere il rilievo in due parti e poi unirlo successivamente questa unione può essere fatta senza bisogno neanche sempre di target o di sfere eccetera il software geoslam hub che mi dà la possibilità diciamo di unire due rilievi fatti in momenti diversi diciamo per esempio due rilievi di 25 minuti l'uno che però sono sempre dello stesso ambiente io li vado a unire è chiaro che quando vado a unire però devo avere una sovrapposizione tra le due nulla di punti affinché il mio software geoslam hub sia in grado di eseguire una sovrapposizione una buona sovrapposizione e quindi mantenere sempre le famose precisioni che io voglio ottenere per cui tipicamente si deve avere una sovrapposizione che è del 10 20 per cento poi dipende dal tipo di ambiente sostanzialmente in quella maniera lì si ottiene una sovrapposizione diciamo tra virgolette automatica all'interno stesso del geoslam hub in ogni caso io posso anche georiferire questo chiaramente avendo dei punti volendo se ce l'ho il software in grado quindi diciamo mi facilita perché io non ho necessità di avere target di non avere sfere di non avere punti topografici o altre cose però se io ce le avessi soprattutto perché ad esempio io voglio georiferire nella parte esterna questa mia villetta se io ho dei punti topografici esterni che ho preso con il mio gps con il mio gnss ovviamente io posso rilevare quei punti col mio laser scanner e successivamente georiferire tutto il mio rilievo rispetto a quei punti e quindi poi chiaramente avere le coordinate che sono in coordinate diciamo così assolute ok allora visto che citi software geoslam hub qui c'è marco che dice immagino che geoslam hub sia un programma per windows esiste una versione linux che formato ha il file che viene prodotto del laser scanner allora il geoslam hub effettivamente è un software che gira solo su windows diciamo attualmente da quello che mi risulta non mi risulta che ci sia non so se sei in elaborazione per linux quindi bisognerebbe poi eventualmente mettere un simulatore se uno ha un linux perché ritiene che è un sistema operativo migliore deve mettere un emulatore windows per poter poi lavorare con il geoslam hub che lavora solo sotto windows la seconda parte della domanda scusano gianni me la sono persa no era soltanto chiedeva il formato del formato del file il formato del file che viene dato in pasto a geoslam hub è un formato proprietario e infatti l'estensione è appunto geoslam ma diciamo quello lì è specificamente solo per geoslam hub e geoslam hub che si preoccupa poi di esportare di esportare qui come vedete qua di esportare la nuvola di punti le traiettorie o tutto eccetera nei vari formati con una serie di opzioni che ovviamente si possono si possono andare a eventualmente a esercitare sono tutti quelli che vengono conosciuti quindi diciamo da abba io vado verso qualsiasi tipo di software che gestisce i numeri di punti dai lass la 6 57 direttamente anche nei formati autodesk rcp per recap quindi diciamo da questo punto di vista non c'è difficoltà di esportazione ok poi qui cristiano torna sulla questione della distanza però invertendo il concetto dice c'è una distanza minima di rilievo ad esempio se sono all'interno di un corridoio molto stretto o un vano di passaggio rileva tutti i punti o va in errore allora ecco qua il problema non è tanto diciamo della della distanza minima perché la distanza minima noi abbiamo fatto dei rilievi in dei tunnel delle cave delle cose eccetera quanto di feature le famose feature cioè se io avessi un corridoio lunghissimo mettiamo 10 metri superfici bianche lisce eccetera lì avrei dei problemi nel senso che avrei una deriva un drift pur avendo sia il laser che mi misura le distanze il mio imu che quindi mi misura mi dà i dati del posizionamento in ogni caso avrei un drift una deriva per cui magari quel quei 10 metri adesso dico 10 metri per fare un esempio che sarebbero dritti ipoteticamente quindi una linea dritta quando vado poi a eseguire vado a dare ad vedere i risultati invece vedo che sono leggermente storti perché mancano delle feature ecco in questi casi tipicamente eh si mettono delle feature chiamiamole così artificiali nel senso che quando si hanno situazioni di questo genere è capitato pochissime volte nel nostro caso però è capitato abbiamo sostanzialmente messo degli degli scatoloni eh lungo il percorso che sono che chiaramente sono posizionati lì e vengono rilevati dal dal software da hub successivamente processati in modo tale da ritornare ad avere delle feature sufficienti e ritornare sempre all'accuratezza e chiaramente vanno messi con una certa frequenza secondo le distanze eccetera e con delle dimensioni che sono oltre 50 cm per 50 cm in modo tale che sono sicuro che vengono rilevati in maniera precisa quindi diciamo non è tanto per chiudere eh e dare la risposta non è tanto la dimensione del corridoio ma quanto la presenza di feature che definisce l'accuratezza e la bontà del risultato del rilevo eh speditivo e dinamico benissimo poi c'è Fabio eh che fa una domanda che farei anch'io diciamo lui dice se ho dimenticato una parte posso integrare con la seconda uscita rilevo o devo rifare tutto? No 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 non devo rifare tutto ecco quello ritorniamo al discorso dei dei venti trenta minuti di prima eh una volta che io cioè io posso tornare in qualsiasi momento sullo stesso posto rilevare un'altra parte chiaramente l'accortezza è rilevare sempre una una parte comune a rilevo precedente in modo tale che sono in grado di automatizzare eh eh diciamo eh l'accorpamento delle due nuvole di punti altrimenti devo avere dei punti di riferimento eh nei due rilievi quindi sia sull'uno che sull'altro per poter poi andare a unire le nuvole di punti in un software diverso però diciamo se il lavoro su Geoslam Hub eh dove viene eseguita questo tipo di operazione devo avere una sovrapposizione diciamo di dieci venti per cento quindi significa se io faccio rilevo di venti minuti devo avere almeno tre quattro minuti di rilevo eh quattro minuti di rilevo diciamo così comune quindi devo rilevare due volte o almeno una parte del rilevo che ho fatto la volta precedente ok ma non è un problema di è chiaro che giusto per per fare un caso estremo siccome l'algoritmo Slam si basa su queste feature famose e chiaramente gli ambienti sono ambienti che sono statici cioè non è che si muovono gli oggetti eh all'interno soprattutto la parte comune che io vado a rilevare che è quella che sarà utilizzato dal software per saldare tra virgolette le due parti eh di rilievo fatte anche in momenti diversi è chiaro che in quella in quella area lì devo avere la stessa configurazione faccio per dire se io avessi qualcosa di che che è diversa completamente è chiaro che non riesco a sovrapporre però adesso questo è il caso estrema è giusto per dare un'idea poi di quello che significa fare eh una cosa di questo genere ok poi c'è il mio amico Corrado che dice riformo la domanda perché è importante la dimensione della nulla finale rispetto ad uno scanner normale quanto pesa di più? Io adesso lo scanner normale non so questo è in funzione della risoluzione ovviamente della velocità in questo caso essendo rilievo dinamico dalla velocità con cui io eseguo il mio rilievo quindi la velocità anche il mio passo insomma eh quello che tengo se io vado più piano ovviamente ho più punti ed è più densa la nuova di punti se ne ho se se sono più veloce o meno punti eh il laser scanner della Geoslam ma noi abbiamo eh diciamo eh delle risoluzioni che sono sono giuste tra virgolette per eseguire eh il tipo di rilievo per cui per gli interni noi abbiamo un laser scanner che ha quarantatremila punti per l'esterno eh per secondo eh quello lì per rivoluzione RPM invece per gli esterni abbiamo un altro laser scanner che ne fa centomila quindi e con un range di cento metri e quell'altro trenta metri quindi questo è il discorso ora dipende dall'ase scanner anche quelli gli laser scanner anche quelli statici hanno una risoluzione loro chiaramente essendo in un punto fisso non hanno la variabile dovuta alla velocità con cui io eseguo il rilievo però chiaramente hanno una risoluzione anche loro che è funzione proprio del eh eh della dello scanner che è al che che sto usando chiaramente è su quello che devo andare a fare il mio ragionamento statico una volta che so quello sul dinamico ripeto ho un numero che è quello che ho detto prima quarantatremila centomila cioè trecentomila eccetera mi correggo è trecentomila per quello esterno diciamo così che viene utilizzato all'esterno non centomila trecentomila punti e è ovviamente in funzione della velocità con cui percorro il diciamo il rilievo la strada del rilievo che sto eseguendo ok poi qui ci sono diversi iscritti luca cristiano agostino che vorrebbero avere un'idea del prezzo però cristiano dice si può avere qualche prezzo di riferimento per il nolo o per l'acquisto magari se vuoi dare qualche cifra così orientativa poi magari nelle slide trovano i vostri riferimenti e li contattano ma qua ci vuole diciamo io in questo caso mi vesto un po' da tecnico perché faccio il tecnico anche se diciamo seguo anche un po' la parte commerciale cioè il direttore commerciale poi ovviamente di crisi che segue proprio questa questa parte qui quindi è lui che è la persona più idonea quello che posso dire che chiaramente ci sono allora non per mettere le mani avanti ci sono delle variabili che sono innanzitutto la tipologia di rilievo che viene fatta perché in funzione della del manufatto diciamo dell'oggetto di quello che si deve rilevare chiaramente è diverso anche poi il lavoro che deve essere eseguito sia in termini di rilievo di per sé che in fase di post processamento comunque diciamo che ovviamente stiamo parlando adesso giusto per dare dei numeri di rilievo che può essere da da 500 mille euro fino a se dipende poi dipende dalla dimensione dalla grandezza diciamo dai metri quadrati tanto per capirci che il rilievo tanto per dare unità di misura mentre sulla sulla parte diciamo del dell'acquisto diciamo all'istino il un laser scanner a seconda la configurazione come al solito l'avete visto ci sono tutta una famiglia gli accessori eccetera si parte da sui 25 diciamo col software tutto incluso chiaramente parliamo di package completo si parte da 25 mila ma si può arrivare euro sto parlando 25 mila euro si può arrivare a 30 40 50 e per situazioni particolari con gli zainetti con quello in cui si fa lo smart city con una camera 360 non quella che abbiamo utilizzato che diciamo che invece è un prezzo molto più accessibile ma quelle più avanzate che servono appunto vengono utilizzate per fare rilievi per tipicamente in ambiente smart city l'aria arriviamo anche a 60 70 mila euro ok però è chiaro se voi voi avete il mio indirizzo di posta insomma se avete un'idea un po più precisa io posso da essere più risposta prima guarda carlo gli iscritti qui poi scaricheranno le vai dove trovano i vostri riferimenti e poi potranno contattarvi chiedere chiedervi esattamente essere più preciso e per essere così rendo conto che la risposta no però non posso che essere vago generico chiaro poi qui c'è giuseppe che fa una domanda che interessa molto anche a me si può zero referenziare il rilievo ad un sistema di coordinate note eh sì ritorniamo un po l'ho accennato prima diciamo che ehm quando l'unione della nuvola di punti può essere fatta se io ho un sistema di riferimento assoluto quindi ad esempio ho dei punti che sono battuti eh in coordinate che ne so dico adesso vgs 84 vabbè insomma tanto per capirci o qualsiasi di sistema di riferimento io posso col mio laser scanner stazionare su quel punto per 5 secondi devo stazionare dopodiché il software geoslammab in automatico riconosce quel punto nella fase successiva e potrò associare associare a quei punti le coordinate assolute che io conosco a questo punto e quindi georiferire la mia nuvola di punti sì 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 ok poi qui c'è Sandro che fa una domanda di carattere un po diverso dice nell'elaborazione del numero di punti il laser scanner lavora in una modalità che può arrecare problemi di salute all'operatore ad esempio con le emissioni di radiazioni nocive? no allora il laser il laser chiaramente è un laser di quelli che non sono assolutamente nocivi per le persone tant'è che diciamo una delle caratteristiche principali e fondamentali eh del laser scanner di questa tipologia laser scanner della geoslam è che possono essere utilizzati anche quando la gente diciamo lavora diciamo lavora cammina normalmente io incrocio le persone noi abbiamo fatto rilievi in aeroporto con gente che c'era eh chiaramente c'era c'era tantissima gente eh parliamo di prima del covid ovviamente perché se si va adesso in aeroporto non c'è nessuno e vabbè insomma eh tanto per tanto per capirci quindi assolutamente il laser è una categoria eh di quel partiene a una categoria di di quelle della famiglia laser che non sono nocivi per la salute ok e qui c'è una domanda forse più per Marco eh di Cristian che dice rimango perplesso sulla precisione nel ricostruire linee vettoriali sulla nuvola di punti come faccio a sapere se sto prendendo i punti giusti vedo molto disturbo lungo i muri che devo vettorializzare so Marco se questa è una domanda più per te o per Carlo per me per me direi sì allora è lì ci vogliono allora un po' di abilità di disegno in SketchUp non può mancare è innegabile e l'interpretazione c'è sempre un po' da parte di chi sta disegnando se vuoi passarmi lo schermo Gianni faccio vedere quale passaggio ok allora ecco ti ho passato lo schermo grazie e ho visto che è stata posta da diverse persone anche su YouTube contemporaneamente e ovviamente è un nodo cruciale il punto è questo che la nuvola prende dentro di tutto siepi comprese vasi dei fiori di tutto l'arredo qui c'è una cariola ad esempio per pian terreno quindi bisogna avere ovviamente un attimo di spirito critico diciamo in quello che si sta vedendo non prendere tutto per buono anche perché questa non è a colori infatti dopo Carlo ti vorrei chiedere se cioè riportarti la domanda che ha fatto più di una persona se era possibile averla colorata la nuvola con i colori del posto ma al di là dell'aspetto cromatico diciamo bisogna mettersi nelle condizioni di lavorare bene quindi avere uno spessore ridotto 10 20 centimetri poi magari per verifica metto un metro e sto lavorando sulla profondità di campo che c'è dal piano di sezione adesso c'è attivo quello del piano terreno in poi devo mettermi di fronte è chiaro che se io metto una profondità di campo molto alta vedo probabilmente anche un muro che è un po che un po spancia e quindi non so più che punto prendere quello sopra o quello sotto però è la condizione migliore a mio avviso questa intanto partire con una certa regolarità e fare a meno totalmente a meno per quanto mi riguarda dello snap alla nuvola che è bella è una bella cosa che posso agganciarmi ai punti della nuvola se voglio ma non ho idea di quale punto sto scegliendo i punti sono talmente tanti che sceglierne uno un altro a mio avviso non fa tanto la differenza piuttosto la disattivo e non lo scelgo io a che punti da che punto più o meno partire a che punto arrivare ora questa come detto non è la nuvola quella densa la nuvola più densa era quell'altra che avevo fatto vedere all'inizio che quindi è anche più precisa qui si vede un po di un po di disturbo c'è un po di margine di scelta diciamo purtroppo ma così è posso ridurre lo spessore a 5 10 centimetri un solo centimetro quindi avere esattamente quella fetta di un centimetro a che so un metro da terra e quindi poi avviene il disegno che a mio avviso deve essere di tipo regolare cioè lungo gli assi in sketch up e dopo eventualmente si vanno ad aggiungere delle irregolarità la spazzatura lo spazzamento di un muro adesso adesso sto disegnando normali linee chiudo ad esempio questo perimetro di linee qui cambio stile di visualizzazione così lo vediamo meglio cosa è successo che ho disegnato una volta che ho chiuso il perimetro di linea è comparsa una superficie chiaramente al piano 0 sul piano xy è apparsa quella superficie ed è quella che poi si va a distruggere così ho fatto per arrivare al modellino 3d che abbiamo visto sono partito prima di tutto da un grande rettangolo di tutto l'edificio poi un offset un classico offset per avere il muro perimetrale poi andare a controllare quindi muro per muro se lo spessore era corretto e per ogni muro per ogni parete per ogni linea bisogna controllare e diciamo un lavoro che si sposta più al pc o minor tempo di rilievo in sostanzialmente perché sposto l'operazione di rilievo tra virgolette all'interno di un lavoro d'ufficio con un database sostanzialmente completo di quello che l'edificio è è come se portassi l'edificio dentro computer e quindi poi ricavo quello che mi serve rileva ricostruendolo ok poi c'è galtano che dice a proposito della sovrapposizione di più rilievi è possibile integrare immagini ingegnerate con altri sistemi per esempio da drone e questo ci riporterebbe marco a quel corso che abbiamo fatto un anno fa in cui abbiamo integrato in uno dei punti sia da laser scanner sia dal drone giusto sì sì questo è possibile ovviamente questo si ritorna poi nel discorso generale di avere una nuvola di punti che o è già referenziata quindi già nella posizione diciamo corretta per cui se ho dei punti di riferimento topografici o misurati oppure se io ho la nuvola di punti diciamo con con dei punti di riferimento che sono comuni che riesco quindi a a prendere come riferimento l'un rispetto all'altro le nuvole di punti si possono si possono unire quello che si fa normalmente ma quello si può fare in qualsiasi poi diciamo software di 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 editing delle nuvole di punti noi ognuno c'ha dei riferimenti chi utilizza quelli dell'autodesk oppure noi siamo della famiglia trimble usiamo trimble real works per esempio per per fare queste operazioni però ci sono varie varie tipologie cioè si può fare sia all'interno diciamo è chiaro che geoslam hub tipicamente viene utilizzato per le nuvole di punti che io genero con il mio laser scanner dinamico lì dentro la possibilità di prendere di di unire le nuvole di punti generate con il mio laser scanner poi dopo è in questo caso o con con trimble scan essenzial se riesca a a utilizzare in qualche maniera o se no tipicamente ne utilizziamo trimble real works per lavorare è un software specifico per andare a lavorare sulla nuvole di punti in maniera un po più precisa c'ha degli strumenti molto sofisticati per gestire nuova di punti e successivamente puoi passare anche a sketch up c'è anche dentro lì un passaggio a sketch up da trimble real works direttamente per poi andare a eseguire quel quell'attività che ha fatto vedere marco precedentemente ok io direi che siccome è meno 10 alle 6 adesso io vi faccio un'altra domanda poi ce ne sono molte altre ma a questo punto allora casomai rinviamo un po le risposte al corso che abbiamo ipotizzato di fare se siete d'accordo e poi ne cito alcune qua invece perché c'è chi chiede i riferimenti delle aziende per acquistare gli strumenti sketch up eccetera e mai adesso qui poi dirò come fare per scaricare le slide e avere quindi i riferimenti delle aziende però mi interessava dirvi questa qui di viviana che dice se utilizzo il laser scanner per rilevare un ambiente esterno tipo strada e fabbricati limitrofi quanta pressione posso ottenere e quale software è più indicato per la modellazione sempre sketch up una strada giusto ho capito bene si dice strada e fabbricati connessi diciamo beh diciamo che allora per il laser scanner e per la parte esterna si può utilizzare c'è lo scanner che viene utilizzato con la tipologia di scanner per gli esterni è uno scanner che può essere utilizzato sotto a un drone può essere utilizzato su un veicolo anche diciamo è molto versatile chiaramente ha bisogno poi dell'interfaccia per agganciarsi al veicolo per agganciarsi al drone per agganciarsi allo zainetto ma è sempre lo stesso laser scanner che può essere utilizzato quindi sicuramente si può si rileva la parte esterna la strada con gli edifici e così via chiaramente il discorso di poi utilizzare un software specifico che vada a eseguire un certo tipo di attività è in funzione di quello che devo fare cioè se devo fare un catastro strade ovviamente è un discorso diverso rispetto a che se io devo fare invece solamente un discorso urbano come può essere invece un'altra tipologia di software però quelli sono software specifici che noi anche trattiamo sia a livello di infrastrutture sia a livello di cose ma anche SketchUp qua però è ovviamente Marco che può dire quali sono le potenzialità specifiche di SketchUp per infrastrutture per il territorio Marco dimmi tu che suggerimenti hai per questa tipologia ma non ci sono particolari indicazioni diciamo in SketchUp modellare una cosa piccola, media o grande non fa grande differenza è al limite il livello di dettaglio che si può scegliere che può essere tanto o poco spinto SketchUp di per sé non ha un limite nel disegnare elementi molto piccoli o molto grandi quindi non ci sono particolari precauzioni se dobbiamo rappresentare un territorio quindi una strada con un quartiere una parte di cosa lo facciamo anche con SketchUp tipicamente questo è il ragionamento assolutamente potrei anche portare un modello 3D del terreno o se ho dei punti anche un rilievo fatto di punti battuti posso integrare assieme tutte queste cose creare una mesh del terreno ecco una cosa che Trimble Scan Essential non fa che visto che ha chiesto più di una persona è se genera in automatico delle geometrie come ad esempio un terreno o le superfici dei muri questo no Trimble Scan Essential non lo fa è tutto un lavoro manuale che si deve fare manuale capiamoci quindi con gli strumenti di SketchUp o delle estensioni che vado ad installare o importando un modello 3D del terreno o importando dei file CAD o altri tipi di dati 3D ok dai Marco ti aggiungo un'altra domanda perché questa me la sono sentita rivolgere molte volte anche parlando così con tanti colleghi geometri di Luigino che dice per la mia esperienza dall'elevatore laser scanner 9 volte su 10 i muri non sono ortogonali condividete questo risultato e se si riportate il vero o tendete a ortogonalizzare? a mio avviso dipende un po' anche dal soggetto faccio un esempio l'edificio che poi è stato pure abbattuto per una ristrutturazione per un ampliamento cioè parte è stato abbattuto parte è stato ristrutturato cioè degli anni 60 c'è un muro che era leggermente fuori asse importa poco diciamo quanto ti interessa la precisione dipende se è una ristrutturazione di un bene storico artistico è un conto è chiaro che ti interessa una precisione molto alta e una fedeltà la più alta che si possa avere in altri casi io tenderei a ortogonalizzare la tavola poi deve essere quotata deve essere stampata ci si deve ricavare qualcosa che va magari tagliato a controllo numerico cioè dipende tutto dallo scopo che si dà al modellino che è poi un tema enorme già quello di per sé che sconfina nel BIM cioè perché sto facendo un modello e a cascata devo sapere quindi con che precisione se io voglio ortogonalizzare oppure non ortogonalizzare fa parte dell'interpretare i dati e che è una grossa responsabilità ciascuno lo deve fare in base allo scopo che il suo specifico lavoro impone ok niente io direi che abbiamo fatto le sei ormai domande qua sono tante anche dagli utenti youtube però ecco abbiamo sporato di un'ora quindi ripeto se voi siete d'accordo poi nell'organizzare un corso molto più approfondito un corso specifico rimandiamo poi le risposte a quel corso noi le domande ecco dico a tutti le salviamo e quindi ce le teniamo magari le giriamo già sia a Carlo che a Marco così possono un po' studiarsene e poi diamo appuntamento ma chiaramente vi informeremo su questo con newsletter a quando organizzeremo questo corso più specifico poi per le varie domande qui che sono apparse soprattutto da chi si è collegato su youtube che probabilmente appunto sono utenti crisel o utenti tecnobit che chiedono come fare avere i riferimenti delle aziende per avere i preventivi per avere i costi eccetera e anche per avere poi le slide da scaricare il video da vedere eccetera allora dicevo ecco qui dovreste anche se non siete geometri perché poi questo è un sito dedicato ai geometri ma abbiamo anche molti architetti ingegneri studenti che si registrano andate sul sito consigliandoli.it vi registrarà qui c'è registrati in alto se io sono già logato e poi andate iscrivervi a questo questo seminario qui di oggi chiaramente cliccando qui vi uscirà il bottone iscriviti al seminario e a quel punto allora avrete a disposizione questa pagina in cui troverete adesso qui c'era webinar per chi è entrato oggi via webinar troverete il bottone video il posto di webinar troverete il bottone file con cui scaricherete uno zip contenente le slide dei relatori più quelle mie di spiegazione e poi troverete anche il bottone test il bottone test serve per i geometri che vogliono poi ottenere il credito formativo però ecco direi che avete la possibilità di rivedere la registrazione di questo seminario e di avere se voluto le slide di Carlo e di Marco in cui troverete tutti i riferimenti perché poi qui molti chiedevano i costi un preventivo eccetera ecco cosa chiaramente che era logico aspettarsi ma a quel punto lì potete contattare direttamente le società io direi che se non ci sono altre domande specifiche finali potrebbe ecco qui Pieranzo dice sarebbe interessante eseguire un corso specifico per il lievo ed un altro per la creazione ed esportazione a CAD fatemi sapere grazie molto bravi e quindi questi sono complimenti che arrivano che fanno sempre piacere penso anche a Carlo e a Marco e sicuramente ecco l'idea adesso visto il successo che ha ottenuto questo seminario in termini di partecipazione perché siamo anche qui oltre 3500 iscritti e quindi vuol dire che il tema è estremamente interessante e quindi vale la pena di fare un corso approfondito in cui magari tutti i passaggi che oggi Carlo e Marco hanno così un po' sintetizzato e fatto vedere grandi linee magari invece lì vengono sviluppati in maniera passo passo come del resto siamo abituati noi del sito corsigeometri.it cioè nel fare corsi che abbiano un taglio molto pratico cioè in cui uno possa imparare come si fa effettivamente ecco perché poi se no sembra tutto bello tutto facile poi uno quando ci si mette lì magari si pianta spendere dei soldi poi non riesce neanche a partire quindi questo è quello che noi vogliamo evitare io direi allora a questo punto che possiamo salutarci e chiaramente io poi vi suggerisco sempre i prossimi appuntamenti super bonus qui il 4 marzo e gli altri che ho accennato all'inizio ma li troverete comunque sempre sulle slide sulla mia slide finale qui troverete i prossimi appuntamenti con le date io vi auguro buona serata a tutti e lascio la parola a Carlo e a Marco per i loro saluti allora sono Carlo e allora ringrazio tutti e poi appunto Gianni vi ha dato tutte le informazioni per poterci ricontattare successivamente e come diceva lui sicuramente avremo un corso più approfondito in modo tale da poter non solo rispondere a voce ma rispondere fare eseguire proprio uno specifico corso sugli argomenti che si capisce quali sono in particolare che sono molto sentiti da parte di chi lavora su queste cose in maniera professionale quindi ci deve vivere ci deve campare come si dice quindi grazie ancora e alla prossima grazie a tutti anche da parte mia vi saluto io vi ricordo che rispondo spesso se avete anche qualche domanda sul forum di sketchupitalia.it stiamo proprio rifacendo in questi giorni una veste nuova sarà anche più efficiente nella notifica delle risposte e via dicendo e poi aspetta Marco aspetta allora aspetta che lo proietto così magari se vuoi dare un'indicazione qui ce l'avevo non è ancora online però quello nuovo ah non è ancora online capito quindi tu ti rifiuti no è questo di rigore ma sarà online penso un po' di giorni ma a breve va bene va bene ok benissimo a toni ci si arriva sempre dall'home page di sketchupitalia.it si 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 beh al limite possiamo mostrare quello adesso io mi sembra che ce l'avevo qua da qualche parte no sketchup eccolo qua questo è sketchupitalia.it non so se vuoi spendere due parole su questo così magari chi poi è interessato va a farsi una prima idea sul prodotto magari chi non lo conosce si allora qua ci sono le varie informazioni nella sezione prodotti su sketchup e le varie applicazioni che fanno parte del pacchetto e i viewer e i layout eccetera e anche qua stiamo aggiornando sto facendo un po' di video nuovi sulle varie funzionalità dei vari strumenti qui ci sono esempi nella sezione settori perché può essere appunto impiegato in tantissimi settori differenti ci stupiamo a dire la verità anche da un esempio Gianni che ci è arrivato in questi giorni sì l'esempio che vi ho girato io io sono rimasto allibito quando l'ho visto perché era di un tecnico di un perito che fa il perito per i tribunali e che aveva come hai visto messo su sketchup le scene del crimine proprio vedevi il tipo con la pistola che sparava la traiettoria che entrava nell'auto che colpiva la vittima una cosa che io non avrei neanche mai pensato che con sketchup si riuscisse a fare e sono rimasto veramente impressionato da quello perché pensavo che fosse più orientato al settore architetturale e dealer anche all'arredamento ma un po' cose diciamo sempre che hanno una certa regolarità invece ho visto che lì c'erano macchine strade incidenti macchine tamponate cioè una cosa veramente che mi ha lasciato senza fiato quindi bene poi soprattutto c'è il discorso corsi no Marco che è importante per noi si c'è qua tutta una sezione corsi video registrati oppure in diretta forse ne faremo prossimamente su sketchup e questo sarà da valutare al momento se no ci sono i videocorsi certo ma ci sono i vari videocorsi registrati sono dei tutorial sul canale youtube di tecnobit in cui viene anche rilanciato la diretta di oggi in tempo reale certo quasi con qualche secondo di ritardo c'è tutta la sezione community in cui c'è anche il forum al primo posto e dei link a gruppi facebook molto attivi all'elenco dei docenti certificati che ci sono sparsi per tutta Italia ecco il pulsante forum lì adesso porta è un forum che ha dentro migliaia di domande e risposte degli ultimi cinque anni quindi è un database di informazioni non indifferente e questo qui verrà adesso travasato su un forum nuovo diciamo di nuova generazione certo però direi che qui uno che cerca un certo argomento su sketchup è facile che lo trovi ecco giusto sì infatti infatti il migliore è cercare sempre un po' il sistema è già stato posto e poi eventualmente porre la domanda giusto per non rendere ridondanti i temi poi ci sono i tuoi due bellissimi libri e questo è giusto dirlo perché ci hai messo un impegno enorme quindi tanto vale farli vedere grazie poi c'è la sezione educational questa è dedicata ovviamente alle scuole e poi c'è contatti i docenti i studenti anche loro che ci fanno avanti sempre informazioni licenze eccetera poi ci sono i prezzi ovviamente qui date un'occhiata trovate tutta la parte prezzi con le varie versioni con le varie prestazioni ciascuna e poi chiaramente i contatti dei rivenditori o direttamente di Tecnobit per via o i centri di formazione che poi e se vuoi magari dire qualcosa Marco sui centri di formazione che sono un po' dislocati in giro per l'Italia per cui uno può anche contattare un centro di formazione ed avere dei corsi proprio personalizzati diciamo no? Sì infatti abbiamo cercato già dagli albori dal 2013 14 di promuovere questa formazione sul territorio e quindi abbiamo messo insieme un test di certificazione dei docenti quindi un sistema di qualità sulla formazione è individuato dei centri di formazione qualificati sul territorio con dei docenti di riferimento che sono appunto chiamati SketchUp Specialist a cui si può fare riferimento i corsi in presenza adesso in questo periodo non sono chiaramente il massimo raccomandati però molti di questi promuovono anche corsi online e quindi insomma sono magari anche vicini a punto di vista geografico ma insomma tutta Italia adesso è coperta da una buona offerta di formazione a questo punto di vista sì sì ma se no noi qui su corsi generali di punto di T per quanto riguarda la parte SketchUp abbiamo molti molti corsi se selezioniamo qui la sezione progettazione qui vedete che per quanto riguarda ecco RIO 3D con distolarsi modello SketchUp strutturazioni anche qui questo è un seminario sempre su quel tema lì su Virei SketchUp la progettazione 3D avanzata è una SketchUp e le sue estensioni c'è addirittura un corso base e uno avanzato di SketchUp base per chi parte da zero l'avanzato è per chi lo conosce già quindi noi su SketchUp anche come corsi geometri sono tutti corsi tenuti da Marco ovviamente abbiamo lavorato molto ecco per cui adesso è andato molto sul commerciale ma va bene può anche starci niente io torno a darvi augurarvi buona serata Marco se vuoi salutare anche tu chiudiamo qui certo buona serata a tutti e se non usate SketchUp provate potrebbe rivelarsi una grandita sorpresa insomma grazie a tutti